Grazie, grazie anche all'onorevole Pellegrino che mi dà l'opportunità di chiarire una situazione intricata. È innanzitutto necessario chiarire che la norma in questione, sia nella formulazione individuata nel cosiddetto sblocco Italia, sia poi definita nella legge di stabilità, prevede solo ed esclusivamente una semplificazione amministrativa sul rilascio delle autorizzazioni, senza incidere minimamente sulle salvaguardie ambientali, anzi, in qualche modo rafforzandole. È il motivo per cui il mio Ministero, quello dell'Ambiente, ha condiviso entrambi le stesure. In particolare, nel caso della norma contenuta in legge di stabilità, il Ministero ha espresso formalmente, per lettera del mio ufficio legislativo, un parere favorevole, come risulta dagli atti. Va sottolineato, infatti, che la norma si limita a spostare una competenza autorizzatoria, affidandolo allo Stato, centralizzandolo. Non determina, dunque, alcuna incisione di interessi ambientali. Anzi, si fanno espressamente salvo le vigenti normative in materia ambientale. Lo spostamento delle competenze in questione alla sede governativa, culminante nell'attribuzione al Consiglio dei Ministri della potestà di deliberare, in caso di mancanza dell'intesa con la Regione, fa sì che la cura degli interessi di tutela ambientale, cui è preposto il Ministero dell'Ambiente, possa essere perseguito direttamente dalle nostre strutture. Ciò assicura che l'attenzione nei confronti dei profili ambientali sia caratterizzata da alta competenza tecnica, dalla massima visibilità e responsabilità politica, nonché, e non si tratta questo di un profilo di secondo piano, da un metro unitario in grado di assicurare parità di trattamento tra le diverse regioni d'Italia.